Grazie a tutti. E perché no, per una sera dimentichiamo tutti i problemi e pensiamo solo alla felicità dello stare insieme, uditi, in comunità. Facciamo anche un piccolo dono a chi si trova in un momento di difficoltà. Durante il concerto alcuni incaricati passeranno a raccogliere un'offerta libera che sarà devoluta totalmente alla carta sficariale per aiutare appunto le famiglie che si trovano in un momento di bisogno. I ringraziamenti da parte mia e dell'amministrazione vanno prima di tutto al parroco Don Fabrizio che purtroppo questa sera non può essere qui con noi perché è influenzato, ma mi ha fatto sapere e richiedere di mandarmi appunto un grosso saluto e un grosso orgoglio di buone feste. Ringrazio i maestri Chiara Pistorello, Iosef Avero e Filippo Monttori. Ora, prima di entrare nel vivo della serata, vorrei chiedere appunto al vicepresidente della Proloco di venire a fare le due parole. Buonasera a tutti. Allora, io sono Diana Marchesano e sono qui in veste di vicepresidente della Proloco di Borso. Allora, siamo lieti di essere qui stasera e di collaborare con il Comune per queste attività e per le iniziative di questo pregio. Ci teniamo appunto a presentarci e a dirvi che come Proloco siamo attivi già con diverse attività, con i corsi di computer, con i corsi di grafica e le letture animali che si svolgono ormai nei consueti biblioteca. Per l'anno nuovo abbiamo in servo altre comunità, altre iniziative in cantiere, quindi sentirete parlare di noi. E noi siamo a disposizione comunque magari anche dopo le serate, insomma, per informazioni e abbiamo anche iniziato la nostra campagna per i seramenti. E infine vi vogliamo augurare buona Natale e buone feste. Grazie. Durante il mio maestro Josef Arvero e accompagnato dal piano da Lorenzo Piubato ci presenta Cervato Nostine Nart, noto in Italia come Astro del Cielo, fra i canti più rappresentativi da attraverso i fatti viene espresso con le parole luce e dono elementi, pace infondi nel cuore, un grande bisogno di pace che dopo 200 anni si rivela quanto mai attuale. Buonasera. Grazie a tutti. 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 Il testo parla della nascita di Gesù e dell'arrivo dell'immagine a Betlemme. La melodia presenta Signor Tutti con quella inserita in un manoscritto del 1360 ritrovato in Germano Nostine Nart. Signori e dono Mec Yongle, signori, signori, signor Omnire, signori e signori, signori, signori e signori persone. Grazie a tutti. 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 , 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 ,... 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 ... ,... ,... ,... ,... ,... ,... ,... E noi abbiamo messo solo il giro di due prove e un coro ad hoc proprio per la serata, per permettergli di cantare questa canzone. La mia forte, la tua mano alla mia giri verde, su questo mondo a me casassero le sole, con le caramelle, giro giro loro, questa grande nata, un amico non si ama, non si ama abbastanza. La mia forte, un amante, mi hai risultato ogni istante, un amico è, la rupone è e te. Giro, giro, tondo, nel cuore, con lo scordo, con la colpa, mi rilassi sopporto, con la colpa, giro giro, tondo, tanti ai punti del mio mondo, regalo un sorriso, a chi mi ha subito. Giro, giro, gatto, mi sento quanto fiasco, è una specie di magia alla tua mano, che si perde nella mia tanta nette, e ti vedrai che sente, il tassero le pere, non lascia vedere nessuna. Giro, 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 moro, in questa grande nata, un amico non si ama abbastanza. Giro, 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 giro L'amico vero, vicino, presente, l'amico dito prende e riso in pianto, l'amico d'è staccato. L'amico è forte come un vino, quando tiramento è pieno come un fiori, l'amico notando il cerveco, la名c l'amico è una forza che si isterà il cielo dopo, il senso è posto dopo passo, in questo tuo cammino, c'è il logistics rotto sta con me, l'amico è forte come un vino, dal bananas è grande. Non so caro come la solita La solita C'è la vita La scuola Una scuola La scuola La scuola E te Cilici suo tonno Guardati un po' intorno Guardati un fratello È questo o quello Grazie. 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 Questa sera, come negli anni precedenti, in questi cinque anni del mio mandato, sono stati i momenti più belli e gratificabili. Grazie. Perché è un'occasione particolare per celebrare quella che definisco la festa della famiglia di Bosch, di una famiglia allargata, quale deve essere una comunità. Siamo in tanti questa sera attorno alle nostre corale per provare le emozioni di Natale. E ci sono ampiamente riusciti. Abbiamo una vera ricchezza. E i canti che abbiamo ascoltato sono veramente espressione dell'anima, del crido di gioia, di speranza dell'uomo, che attraverso il Natale queste emozioni scopre veramente di appartenere ad un'altra realtà. Quella realtà che guarda al cielo. E siamo qui ora per godere, per provare la gioia. Permettetemi di usare queste 42 le borse di storia. E vi assicuro che le medie di questi ragazzi non esagerano se dico che sono vertiginosi. Impressionante. E' giusto che queste figure vengano presentate e riconosciute di fronte alla comunità. Naturalmente ringrazio il nostro logo per il servizio logistico che ha dato questa iniziativa. E ringrazio i fotografi. Gli ho chiesti espressamente. Perché inizio che questi eventi vengano documentati. Perché appartengono. Sono queste le pagine belle della nostra storia. Che lieve dalla campagna di Petrenne veramente inlubiti. Ma soprattutto riscaldi i nostri cuori. E nel canone del cuore con questi eventi ce n'è veramente bisogno. Tanti auguri. Andrea Martina. Marco Bertoncello. Nicola Pizzotto. Nicola Pizzotto. Cristian Cerotto. Elisa Cerverini. Elisa Cerverini. Elisa Fabiangu. l'onora Fabiana e l'onora espressa Nicola Bisentini Emilio Triolo Giorgio Nettamasco Anna Benedetta Bergamini Chiara Bonato Sonia Gordi Margherita Bonetto Giovanni Cerotto Veronica Coletta Giacomo Corradino Giulia D'Agnardo Devis D'Agnardo Vanessa Pavero Giorgio Funga Mariana Funga Giovanni Gambasi Rita Girardi Anna Nesotto Anna Nesotto Azzurra Grappiglia Alessia Márquez Alessia Márquez Alessia Márquez Mónica Oliva Irene Parodino Irene Parodino Ebeca Milka Ebeca Milka Giuliana Zegnotto Miriam Tommello Miriam Tommello Io mi ho visto Per televisione Quanto è simpatico Ma sappiamo anche che è un divoratore dei libri Non so se sia proprio un bellissimo regalo quello dei libri ma avendo saputo questa informazione abbiamo pensato di dargli appunto una buona opera Cristo, lì, ti va bene? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.